Prego, sempre sull'ordine dei lavori. Sì, grazie Presidente. Per segnalare anche ai colleghi che pochi giorni fa abbiamo avuto una sentenza del Consiglio di Stato che praticamente ha decretato la fine delle aziende della banneazione turistica in Italia. Una sentenza pesante che impone una scadenza al 2023 per mettere indirogabilmente ormai all'asta le concessioni di maniali marittime. Vedete, nel decreto concorrenza poteva il Governo intervenire, come è intervenuto in tanti altri casi, per dirimere una questione che ormai si trascina a decine di anni e che nessuno ha mai voluto risolvere veramente. Sono decine di anni di ignavia di chi è stato al Governo rispetto a una problematica che si era posta a livello europeo. È intervenuta la legge di proroga nella 145, ma era stata immediatamente disattesa a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, grave anche questo, non solo, ma di fronte al fatto che molti comuni si erano resi parte dirigente nell'applicare una legge, addirittura l'autorità per la concorrenza in mercato aveva cominciato a diraitare per contestare questo comportamento virtuoso fino a prova contraria, perché se un comune applica una legge non crediamo che possa essere cepito nulla. Una confusione totale, una confusione che il Governo poteva cogliere l'occasione anche nel decreto concorrenza di dirimere e che non ha fatto. E allora noi chiediamo come Fratelli d'Italia che il Governo venga a riferire in merito a questa vicenda e ci indica cosa intende fare, perché aver delegato alla magistratura amministrativa la risoluzione di un problema che riguarda 30.000 aziende è assolutamente inaccettabile per Fratelli d'Italia. Il Governo deve battere un colpo, la politica deve smettere di girarsi dell'altra parte rispetto a questi problemi. Oppure si dica chiaramente, e lo devono dire anche le forze politiche che fanno parte dell'attuale maggioranza, che alle aziende banali si vuole fare la fine della rana bollita di Shomsky. Piano piano le si vuole portare a estinzione. Ora ci sono delle forze politiche nel Governo che hanno sempre affermato in modo coerente, non condivisibile secondo noi ma coerente, come i Cinque Stelle, che le concessioni demaniali devono essere sottratte e spropriate a chi le detiene attualmente. Ne fanno una questione ideologica, la motivano, noi la contestiamo, ma perlomeno apprezziamo una coerenza. Certo, poi si dovrebbe spiegare agli italiani, non solo perché queste eccellenze del nostro turismo italiano devono essere date in mano a chi farà pagare gli stessi servizi, a chi fruirà di opere che sono state costruite nel tempo. Se veramente il turismo si accrescerà levando queste competenze imprenditoriali dall'attuale gestione di strutture, che non sono semplici casottini sulle battigie, sono veri e propri stabilimenti balneari dotati di molti servizi di pescine e di spa che sono state costruite nel tempo, a noi sembra un esproprio, non siamo d'accordo. All'interno di una norma che avevamo proposto tra l'altro già nel 2018 insieme al Presidente Meloni cominciavamo anche a trattare di altri problemi, quali l'accesso libero alle battigie, alcune calmierazioni sui prezzi. Cioè si poteva intervenire anche per modificare la scarsità di canone che a volte queste aziende pagano. Andiamola a vedere se devono pagare. Ci fu una frase di breatore importante per uno stabilimento di balneare di Forte dei Malmi dove disse ma io sono disposto a pagare anche 100.000 euro l'anno di concessione, non poco o nulla. Le dichiarazioni di Cinque Stelle sono chiari, ce n'è stata l'altro giorno di Berti, di Battelli. Bene, questa è una parte, è una visione, ma le altre forze politiche del Governo cosa vogliono fare? Allora, Fratelli d'Italia chiede che il Governo venga immediatamente a riferire. Annunciamo già una proposta di legge che deve essere, che dovrà secondo noi essere discussa urgentemente dalla Camera. Grazie.